Serve una donna. Senti una tua amica? Chiederò. Non dirmi che non hai amiche femmine. Becca è andata in New Jersey. E Sapna è in riabilitazione, perciò... È difficile farsi nuove amiche a questa età. Che ne dici di Ashley? Quella dell'ufficio. La segretaria, Ashley. Ashley con quel... bel sorriso. Dai, accidenti. Sembra competente.